Mmm, io onestamente credo che questo sarà il video più importante del mio canale No vabbè, ce credo manco io Allora, io credo che questo sia senza dubbio il video più importante del canale No vabbè dai, anche meno effettivamente Però, 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 perché il bat c'è sempre E' sicuramente uno dei video più attesi del canale A me viene da ridere perché il cambiamento che vi porto today È una cosa, a parte ambigua perché uno non mischia in italiano e inglese quando parla Ma soprattutto è una cosa veramente attesa da moltissimi di voi Forse questo video lo guarderanno persone che non mi seguono da due anni Ma lo guarderanno soltanto perché due anni fa io dovevo fare sta cosa e finalmente l'ho fatta Signore e signoi, o meglio, ladies and gentlemen Perché siamo anche in... gentlemen poi soprattutto Siamo in fase di Oscar, stavo dicendo Vi presento il mio nuovo computer Mamma mia, pazzesco, è emozionante questa cosa È un HP, è acceso, funziona, è un i7 Ve l'ho fatto vedere su Instagram, peraltro, quindi le manderò la clip adesso Ebbene sì, finalmente lui Un nuovo computer HP, non riuscirò mai ad aprirlo con una mano Però comunque è lui, insomma, ve lo faccio vedere Va bene, ve lo faccio vedere nella storia dopo Non ci sarà nessuna musichetta, ci sarò io che parlerò tipo Piero Angela E niente, questo è il computer, un i7 Mi serviva come il pane perché in velocità, processore e tutto È tutta un'altra musica rispetto all'altro E niente, dai Ma a parte Instagram, la cosa figa di questo computer È che adesso io potrei dirvi tantissime cose Darvi tante info, ma non vi interesserebbe Anche perché l'80% di voi magari non capisce nulla di computer Ma è compreso E quindi, che cosa vi posso dire? Che semplicemente è quello che mi serve Cioè, è quel computer che io già due anni fa, minimo Avrei dovuto prendere per non smadonnare perennemente Prima di ogni video, creando ogni episodio di carriera Quindi, da questo momento in poi, ve lo dico spassionatamente Proprio per la carriera Se non esce, e io vi dico, è colpa del computer Ecco, da adesso in poi, state tranquilli che V'ho detto una cazzata Perché non può... Cioè, a parte dovrei ancora provarsi Quindi sto parlando un po' troppo presto Magari poi veramente mi dà problemi con la carriera Però, tranquilli Cioè, a differenza dell'altro computer che adesso do a mio padre Magari, pa, mi dispiace che t'accollo sta croce Sto polmone, è una cosa brutta proprio Però, a differenza dell'altro computer Questo qui mi sta già garantendo Ma del resto l'ho preso apposta Delle prestazioni, delle performance Decisamente migliori E quindi non posso che essere contento Detto questo, ho sfruttato il computer Come vi ho anticipato ieri in live su Instagram Perché volevo fare un video un po' così Alla cazzus decanis Alla pene di segugio Per essere non volgari Per parlare un po' con voi Perché ogni tanto mi piace farlo So che molti di voi mi seguono Sia i ragazzi che le ragazze Non solo per la carriera Ma anche per altri video Ad esempio questi Perché effettivamente Ebbè, cioè a me per esempio piace Sare dall'altra parte lo schermo E guardare un video del genere Magari mentre faccio altro Cioè, sto facendo colazione Sto cazzeggiando a letto Sul divano Sto cagando Ecco, questa forse è meglio di no Perché poi se vi stimolo quello È un po' un problema Però vi sarei utile a qualcosa Vabbè, insomma Stronzate a parte Direi che un bel Come state? È una domanda Per iniziare un pochino In realtà Sembra che dico iniziare So io durerà chissà quanto No, durerà pochissimo Era giusto per parlare un po' Io come vi dico Più o meno Una volta ogni due mesi Quando faccio questi video Più o meno Bene Onestamente sto bene Non è il periodo migliore della mia vita Sotto tutti gli aspetti Perché comunque A parte che io odio fermamente Questa fase dell'anno C'è la fine dell'inverno Ma neanche la fine La seconda metà dell'inverno Non parte prima della primavera La odio proprio Mi ricordo quando stavo a scuola Era periodo di pagelle Quindi è motivato l'odio Che ho nei confronti di questo periodo Però al di là delle pagelle Effettivamente È un periodo che a me non piace Perché comunque fa freddo Non è il freddo quello natalizio No, l'ho già raccontato diverse volte È un freddo che tu dici Sì, ma Cioè Natale è passato Ma ora quando arriva l'estate Di base è così Poi moltissime persone In realtà lo adorano questo periodo Io non so Non sono tra questi Fatemi sapere voi Qui sopra nel sondaggino E sotto nei commenti Se fate parte di questa categoria Oppure no Detto questo Sto bene comunque Perché al di là di tutto Sto studiando per la patente Sto andando avanti con l'università Mozzi che bocconi Ma sto andando avanti È chiaro che non è semplice Perché molti di voi Magari stanno facendo l'ultimo anno Gli ultimi anni del liceo Che poi sono insomma Prossimi ad iniziare questo percorso Vi posso assicurare Che è molto più complicato Sotto certi aspetti Rispetto alla scuola Perché vi perdete più facilmente Non c'è il professore Che vi dice Guarda devi interrogare domani Dopodomani Non c'è sta cosa Però d'altro canto Se sei uno bravo ad organizzarti È una favola Perché comunque ti gestisci tutto tu Le sessioni d'esame Di qua e di là E quindi svolti completamente C'è poi l'amore Quello non può mancare ovviamente Sono fidanzato ormai da Beh oggi che carico il video Sono esattamente 5 mesi Quindi direi che sta andando molto bene Non soltanto per la durata Ma soprattutto per il tipo di rapporto che abbiamo Quindi a meno che non si lasciamo domani In gufata clamorosa Stiamo bene E questo è importante Detto questo Non posso vi ricordarvi Due appuntamenti fondamentali Prima di salutarvi Perché già ho rotto le palle Il primo è che domani esce un episodio spaziale Ma spaziale veramente della carriera Che ritorna sul canale dopo tipo una settimana Mentre i cani abbagliano Un episodio pazzesco In cui succederanno cose belle È il classico episodio In cui Fede Marconi rimonta partite Però Però Io non vi spoilerò nulla Ma vi dico soltanto Domani accadrà un qualcosa di esagerato Quindi Non potete mancare anche per questo E poi domenica I video Vi stavo per dire Che non escono Nelta escono Perché uscirà la reazione Gli allies di Frosinone Roma Che la commentiamo con Roma Crivo Ma soprattutto ci vediamo Perché vi ricordo Come ho fatto su Instagram E come farò anche domani Ovviamente nell'episodio di carriera Che domenica Ovvero il 24 A partire dalle 15 Saremo al Flaminio Real Saremo chi? Io e altri youtuber Tifosi della Lazio e della Roma Non solo Perché ci saranno anche tantissimi ospiti C'è Sodin Che sarà ospite E commenterà l'evento Oltre a fare interviste E c'è anche un secondo ospite Che però vi dirò soltanto Questa sera su Instagram Quindi seguitemi su Instagram Se ancora non lo fate Per avere questo spoiler Incredibile E in base a lui Deciderete se venire Oppure no all'evento Detto questo Ci vediamo lì Vi godete la partita Dopo la partita Ci facciamo foto Autografi Quattro chiacchiere Tuzia qua Pelata Quello che vi pare a voi E poi il 2 marzo Ovvero sabato prossimo Il giorno del derby Vero Uscirà il video Come sempre Sul canale Detto questo Signori Fatemi sapere Vi ripeto Come state voi Nei commenti Che cosa state combinando Della vostra vitaccia E ditemi effettivamente Da quanto tempo Aspettavate Quel computer Perché io Sinceramente Stavo a perdere i capelli Infatti Sono cascati Dall'ultimo video Ma vabbè Un bacione Ciao